Ciao, si gira. Ciao, oggi è il primo giorno, siamo a Venezia, abbiamo fatto un tour delle isole, abbiamo visto Murano, con la dimostrazione del vetro soffiato, dei fenomeni. Abbiamo comprato anche due caramelline col vetro di Murano. Stupendo. Siamo andati a Torcello, che è l'isola più lontana, in pratica c'è solo una chiesa, una strada di targola, c'è solo la chiesa, però è molto naturale, molto carina. Poi siamo stati a Murano, dove ci sono tutte le case colorate, forse è l'isola più carina, così per fare delle foto da visitare. E poi la barca ci ha lasciato in Piazza San Marco, quindi oggi stiamo facendo tutta la strada a piedi, la Piazza San Marco fino a Piazza Le Roma per prendere l'autobus e tornare nel nostro bellissimo camping, dove c'è la nostra bellissima casettina, dove ci sono due letti, un armadio e due prese, e basta. Però va benissimo. Per 25 euro in due va benissimo. Qui abbiamo paccheggiato la nostra gondola, che abbiamo comprato qua a Venezia, la lasciamo appostaggiata qui, quando torneremo la riprenderemo. E siamo un po' stanchi, perché abbiamo dormito poco stanotte, comunque qua a Venezia oggi ha fatto un gran caldo, quindi stanotte andremo a dormire molto 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 presto. Alla prossima!